Stagione ufficiale 2017-18, riparte dall'eccellenza la speranza del Chieti di risalire la china. Una firma già c'è, Fabio Lalli che è abituato a segnarne tanti di gol, anche sempre in doppia cifra. 31 anni ma la giovinezza di chi vuole arrivare in alto in nero verde. Certo, più passano gli anni più si sente la responsabilità e la voglia che cresce sempre di più di fare cose importanti. Quindi quest'anno speriamo sia l'anno giusto per fare qualcosa di importante, sia per questa città, sia per tutti quanti, per lo staff, per i giocatori, per tutti, perché veramente ce n'è tanto bisogno. Sai che tra te, Catalli, Cioffi, eccetera, il pubblico si aspetta molto da voi. Oltretutto Chieti è una piazza importante, l'eccellenza sta stretta a questa città. Certo, a Chieti hanno giocato giocatori come Chiesa, Quagliarella, quindi... Grosso. Grosso, ovviamente un mondiale, quindi sicuramente il pubblico di Chieti è molto esigente. Noi faremo il nostro massimo sicuramente, ma siamo sicuri che per questa categoria possiamo dire la nostra. L'impegno sarà massimo da parte di tutti quanti, questo ne sono sicuro. Il pubblico si accontenterebbe di essere un Quagliarella 2, Fabio Lalle? Ma, Quagliarella forse è troppo, però mi accontento di essere ricordato per qualcosa di bello, quello sicuramente.